Ah, come a Livorno oggi, guardate, mi hanno portato una cassettina di occhiate, direte voi, le occhiate che sono? Queste qui le occhiate? No, le occhiate sono queste qua, una sorta di meraviglia di pesce, ce n'è poco di questo qui, eh, in giro per i mercati, ma se vi trovate un'occhiata, su voi la pescate un'occhiata, e così la cuocete a vapore, appena appena sbollentate in un po' d'acqua, ma poco, 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 con l'acqua, con dentro un po' di prezzemolino e un mezzo spicchio di limone, voi avete un filettino di carne bianca, di pesce raffinatissimo, se poi vi prendiate questi filettini, vi lo appoggiate su delle patatine lesse e vi fate una maionesina liquida con l'occhiata, capite che siamo nati oggettivamente nei paesi più belli del mondo, perché secondo me le occhiate è un celano dalle altre parti, da noi invece ci sanno le occhiate. Buona occhiata! Il mio cuore con la mente che ribolle